Io, due anni fa, mi sembra, un anno e mezzo fa, nella pausa mondiale, credo che lui ancora non allenasse la SPAL, però non voglio sbagliarmi. Avevo indicato Daniele come uno dei possibili grandi allenatori, sarebbe diventato secondo me un grande allenatore. Quindi ha tutte le componenti del grande allenatore, dalla personalità alla capacità di relazionarsi e di avere carisma con i giocatori. Io lo conosco bene, abbiamo parlato tanto e sono contento, perché sta cambiando una squadra già che era forte, che già aveva raggiunto due finali negli ultimi due anni, che aveva un suo stile di gioco, ha dato un'impronta completamente diversa in poco tempo. Sta facendo grandi risultati, perché non è tutto scontato e quindi credo che sia proprio sulla strada per diventare un grande allenatore ed è già, dal mio punto di vista, un grande allenatore. Io, guarda, Daniele De Rossi lo rispetto più come... è un mio amico perché lo rispetto innanzitutto come persona. Siamo molto simili come persone. Tanto è vero che le nostre figlie si sono trovate, sono diventate amiche, non è un caso perché probabilmente abbiamo gli stessi valori. E quindi apprezzo quello che ha detto Daniele. La Roma è forte, la Roma era forte con Murigno e forte con Daniele. Ha esperienza. Noi non abbiamo esperienza, però siamo venuti qua per giocarcela con umiltà, chiaramente, perché sappiamo contro chi giochiamo, non sappiamo in che stadio giochiamo, però sappiamo anche quello che valeamo, quello che abbiamo fatto in un anno e mezzo e questa cosa dell'anno e mezzo ci dà tanto orgoglio. Noi non giochiamo solo per raggiungere i quarti di finale, noi giochiamo perché nel nostro club stiamo scrivendo la storia e stiamo facendo qualcosa di impensabile qualche anno fa e questo per il nostro club, per i nostri tifosi, per tutto quello che è il Brighton Calcio è qualcosa che noi sentiamo molto.